Il digitale e le nuove tecnologie sono entrate e lo faranno ancora di più di prepotenza anche nel mondo della scuola. Registri elettronici, lavagne digitali ed e-book. Ma ancora e nonostante ciò i testi scolastici rimangono insostituibili. Gioia e dolori per famiglie e studenti, questi ultimi perché devono passarci sopra ore e ore, e per le famiglie perché il costo della scuola è una delle voci sempre più impattanti sul bilancio familiare. Un mercato, quello dell'usato, quindi sempre in crescita, tra mercatini, passamano spontanei e negozi specializzati in questo mercato, come a Fano ormai dagli anni 80, dove per 3.500 famiglie con il libro usato e la compravendita di testi di seconda mano il colpo, per così dire, viene attutito abbastanza, ma comunque parliamo sempre di diverse centinaia di euro per ogni figlio in età scolare. Ormai le famiglie cercano libri che non hanno trovato in giro d'amici. Ecco, qual è la spesa, insomma, più o meno a famiglia? Varie da scuola a scuola, ovviamente sulle medie parliamo di nuovo, ovviamente circa sulle 300-320 euro per una fornitura completa, dizionari esclusi, e per le superiori varie dagli istituti professionali e licei, siamo attorno ai 280-320 euro, dizionari esclusi. Ci sono alcuni dizionari che costano veramente tanto? Tantissimo, basta pensare al dizionario di latino o al dizionario di greco, costano all'uno circa 120 euro. Ecco, c'è però l'opzione dell'usato? Per quanto riguarda l'usato, risparmiano il 40% su quelli che comprano e hanno la possibilità di rivendere altri libri, quindi risparmiando ulteriormente. Ovviamente non riusciranno a vendere tutti i libri perché, come capita tutti gli anni, ci sono dei cambi di adozione oppure di nuove edizioni. Vendendo 100 euro di libri si incassano dalle 25 alle 40 euro. Più sono marconci e meno valgono. Esatto, perché purtroppo ci sono alcuni libri che vengono maltrattati, ma non solo esternamente, ma anche internamente, e noi cerchiamo comunque di fare una valutazione anche in base al libro. A volte l'acquisto di libri è una vera corsa ostacoli per le famiglie e ogni tanto ce n'è uno in più. Quest'anno hanno inventato il NES, il nuovo esame di Stato, ma di nuovo praticamente c'è solo il bollino sulla copertina. Hanno riportato questa scritta, il nuovo esame di Stato, ma internamente il libro è praticamente identico. Abbiamo controllato pagina per pagina. Facendo in questo modo loro ovviamente cambiano il codice e potrebbero cambiare anche il prezzo, cosa che non è possibile a livello legale proprio, perché le casitrici per poter fare una cosa del genere dovrebbero cambiare almeno il 30% del contenuto del libro. Invece se noi sfogliamo i libri, l'apriamo alla stessa pagina, ecco qua. Pagina 283, il libro è identico, andiamo avanti. Praticamente i libri sono uguali, il codice è cambiato ed è cambiato anche il prezzo. Questo è il codice di quest'anno 2019, questo è il codice degli anni precedenti. Quindi mi raccomando studenti, trattate bene i vostri libri perché sono un capitale nelle vostre mani.